eh ragazzi ragazzi bentornati sul canale di questo blog oggi parliamo di un film strepitoso possiamo dire strepitoso parlando di la cosa di john carpenter vi parlo di questo film perché mi è arrivata da universal questa bellissima edizione 4k in steelbook devo dire che dal vivo è bellissima è veramente bella sto sviluppando una veramente un attrazione fortissima verso le steelbook in questo caso ancora di più perché adoro tantissimo questa illustrazione che rappresenta una scena del film che tra l'altro è solo un piccolo pezzo del film ci sono tantissime altre scene di mutazioni body horror eccetera si potevano scegliere tantissime cose questa è molto caratteristica tutti la conoscono è fighissima la cosa film che non è altro che il remake della cosa venuta dall'altro mondo qua approfitto per dire appunto la dimostrazione tangibile che non bisogna essere contro il remake a prescindere ma bisogna essere contro i film fatti male che questi siano dei remake o siano dei film originali questo film però è un remake non esattamente del film degli anni 50 adesso mi sembra che sia degli anni 50 ma è più un rifacimento del insomma una trasposizione cinematografica del libro da cui sono ispirati entrambi film ma è comunque da considerarsi un remake del film degli anni 50 perché lo stesso john carpenter ha dichiarato ha detto che da bambino mi pare che la cosa dall'altro mondo lo abbia visto quando era proprio un bambino di cinque anni lo aveva ha terrorizzato tantissimo questo mostro che a un certo punto compare nel film la cosa venuta dall'altro mondo adesso non mi ricordo esattamente il titolo comunque quindi è da considerarsi sì un remake in quanto john carpenter voleva rifare il film però è molto più simile a quello che c'è scritto nel romanzo da cui è ispirato infatti nel romanzo la cosa il mostro l'alieno ha questa dote di potersi adattare e imitare le forme di vita che ci sono sul pianeta in cui va insomma e invece nella cosa avvenuta d'altro mondo il mostro è stato pensato più come una specie di frankenstein vegetale diciamo un frankenstein insomma erano altri anni ci poteva anche stare questo è sicuramente un film decisamente superiore che però riprende qualche cosa appunto che c'è anche nel film degli anni 50 però è questo qua è tutta altra cosa quindi assolutamente sono a favore dei remake purché appunto dietro ci sia la volontà di fare qualcosa di nuovo migliorativo ve lo apro così ve la faccio vedere qua c'è il mitico kart russell in questo personaggio particolare perché è un personaggio un po la kart russell c'è sempre un duro un uomo abbastanza forte però in questo personaggio un po più buono un personaggio un po più socievole rispetto a uno jennaplinsky o altri personaggi mentre invece il personaggio che fa in grosso guai a channel town è veramente un cazzone totale quindi questo è un personaggio che mi affascina tantissimo perché ha un lato buono a un lato da leader però è anche molto introverso e tenebroso e è molto romantico questo personaggio perché poi non so se se qualcuno non l'ha visto non spoilerò cosa succede alla fine non spoilerò niente perché è normale che anche un cult del genere qualcuno possa non averlo visto perché se è nato nel 2000 magari non gli è capitato di vederlo e i cult sono tantissimi e ora che uno si mette in pari il tempo passa quindi che vi devo dire io ho avuto l'opportunità di rivederlo adesso dopo tantissimi anni vabbè di questo anche il vhs quindi ho il vhs il 4k tutto quello che c'è in mezzo me lo sono perso l'ultima volta che l'ho visto probabilmente è stato su canale 5 con le interruzioni pubblicitarie di mastrota che vende i materassi in una qualità infima magari anche con le scene tagliate non mi ricordo più ormai questo è una bomba ho approfittato per vederlo per la prima volta in lingua originale in modo da insomma coglierne meglio lo spirito mi è piaciuto tantissimo l'ho visto finalmente ho tutta l'attrezzatura per vedere il 4k quindi la tv 4k l'xbox serie x che legge 4k mi mancava solo una cosa un cavo hdmi ad alta velocità per vedere il 4k cosa che non sapevo servisse vedere questo film in 4k è come hai la sensazione di vedere un film girato ieri ieri come se john carpenter avesse girato ieri questo film perché la qualità è stupenda e ti rendi conto con questa trasposizione che è girato in una maniera fantastica e che la pellicola è qualcosa di superbo proprio super fantastico film per chi non sa cosa succede praticamente un'astronava aliena arriva sulla terra al polo nord arriva sulla terra si schianta diciamo non si capisce bene quando insomma comunque a un certo punto l'alieno che c'è dentro si scongela e succedono delle cose un gruppo di ricercatori che non si sa bene cosa stanno facendo lì comunque non sono militari sono costretti a combattere contro una creatura aliena capace di assumere la forma degli esseri viventi che incontra che assale insomma quindi si crea praticamente una psicosi di gruppo all'interno di questa situazione perché questo gruppo di ricercatori sospettano l'uno dell'altro di essere appunto la cosa meraviglioso è un film meraviglioso questo è il film preferito di molti fan di john carpenter io non saprei dirvi se preferisco la cosa halloween fuga da new york ragazzi c'è infatti così così tanti memorabili che non mi interessa neanche stare qua stabilire se è il mio preferito no è sicuramente nella top 3 dei film di carpenter bellissima edizione ve la consiglio tantissimo dentro c'è un praticamente un documentario di un'ora e passa con interviste la tutta la genesi del film john carpenter cartonasse che parla tutti gli attori che parlano ognuno del suo personaggio veramente c'è di tutto di tutto gli effetti speciali come sono stati fatti i disegni è veramente un documentario diciamo un contenuto extra superbo superbo che vale quanto il film stesso perché scoprire retroscena di questo capolavoro è veramente molto divertente quasi quanto guardarlo vi lascio il link in descrizione se volete comprarlo lasciatemi un commento qua sotto al video per dirmi insomma cosa ne pensate se lo avete visto non avete visto la vostra opinione ma cosa si può dire sennò che è un grandissimo film e se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao ciao